Si è rinnovato oggi l'appuntamento Open Day dell'Istituto Comprensivo Gianni Vergara di Gela durante il quale l'Istituto ha accolto coloro i quali si apprestano ad effettuare la scelta per la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado per le iscrizioni dell'anno scolastico 2016-2017. Il piano dell'offerta formativa dell'Istituto risponde all'obiettivo primario di realizzare il curriculum verticale attraverso un ampio ventaglio di proposte didattiche e progettuali innovative che puntano al potenziamento delle competenze linguistico espressive logico-matematico-scientifiche ed artistiche. Sicuramente una scuola inclusiva, una scuola eterogenea, una scuola che apre delle prospettive differenti e variegate ma nel contempo complete da un punto di vista interpersonale, relazionale e degli apprendimenti. È un momento importante dell'anno per le famiglie soprattutto per i genitori che hanno questo senso di responsabilità per la scelta della scuola secondaria di primo grado per i propri figli. Sembrerebbe alquanto inopportuno parlare di orientamento per la scuola dell'obbligo e invece oggi più che mai rispetto ad ogni piano triennale dell'offerta formativa innovazione di quest'anno secondo la nuova normativa nazionale. Oggi più che mai sarebbe opportuno anche formare, avere dei genitori istruiti, sensibili e attenti alla scelta dell'offerta formativa di un istituto rispetto ad un altro. Le aule tutte dotate di LIM e di laboratori accoglienti ed attrezzati scientifico, tecnologico, musicale, linguistico, arti manipolative e ceramica. La biblioteca sono i luoghi privilegiati per promuovere attraverso una didattica laboratoriale ed innovativa un apprendimento emotivo, i valori, l'ambiente, il turismo, l'archeologia in un clima di benessere. L'istituto offre il potenziamento delle lingue straniere, della musica e delle attività motorie con l'intervento di professionalità qualificate per una scuola che punta alla qualità. Apriamo le porte dell'istituto, è un modo per far vedere e vivere ai ragazzi che si apprestano a questa scelta quelle che sono le attività che la scuola non solo finalizzato all'orientamento ma come metodo, come prassi educativa e formativa mette in atto proprio per attuare quella che è la nuova didattica, una didattica laboratoriale, una didattica esperienziale, una didattica fatta chiaramente di stimoli e di organizzazione dell'apprendimento e non di esecuzioni di programmi. Grazie